SIGLA Avevo undici anni. A scuola mi prendevano in giro perché ero quello nuovo. Rupert! Scusi. Mi sentivo perso. Io e mia madre quasi non ci parlavamo. Tutti abbiamo un idolo da bambini. Il mio era John F. Donovan. Lui, al contrario, aveva ogni cosa. Fama. Amore. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Ho scritto una lettera a John Donovan cinque anni fa. Era assurdo pensare che mi rispondesse. Ma l'ho fatto. Ora ho solo undici anni. Ma poi sarò come lui e faremo dei film insieme. Rupert, questa storia è inventata. No, è vera. Hai mentito. E hai mentito per anni. Non è vero, non ho mentito. Le hai scritte o non le hai scritte le lettere a quel ragazzino? Hai un amico di penna? Ma quale amico? È solo un fan. La prossima! Tu non devi mai più scrivere a quell'uomo. Sono stata chiara? Sento di aver sbagliato veramente tutto. E se il mio posto non fosse questo? Se avessi rubato il posto di qualcun altro? La domanda è come avresti potuto rubare un posto che è stato creato solo per te. Mamma, posso restare qui stanotte? Amore, puoi restare anche tutta la vita. Caro Rupert. Non mi viene in mente un amico più eccezionale. Nessuno potrà capire questa amicizia. Finché non gliela racconterai tu. Finché non gliela racconterai tu.